Tra il micro si porta a casa la necessità di ascoltare i distributori e i reseller. È chiaro che i nostri distributori e i reseller hanno bisogno di più collaborazione, trasparenza e fiducia nei nostri confronti. Quindi dobbiamo essere più presenti e collaborare con le parti per essere più efficaci sul mercato. IoT è un qualcosa che riguarda il presente ma anche il futuro. Quindi bisogna investirci. Le stesse aziende hanno bisogno di implementare IoT per aumentare la flessibilità, per aumentare la sicurezza, per aumentare la qualità. Quindi questi sono dei parametri importantissimi. L'importante è sviluppare sicurezza nella comunicazione di questi sistemi. Quindi 3Micro sta investendo molto in queste tecnologie in termini di security. Per esempio a giugno abbiamo fatto delle ricerche con il Politecnico dimostrando che questi sistemi aumentano la capacità produttiva, ne aumentano e diminuiscono soprattutto il Time to Market, ma allo stesso tempo introducono dei pericoli, dei rischi. Quindi questi sistemi vanno protetti. È importantissimo perché basta intervenire minimamente su questi sistemi per creare poi delle conseguenze disastrose.